Grande è la gioia, così come grande è la festa che oggi celebriamo, essendo già entrati nella festa liturgica della Regina delle Vittorie. Festa solenne per la nostra Chiesa. E noi oggi vogliamo prostrarci al cospetto della Madre Santa per innalzarla e onorarla come ad Ella conviene, supplicandola così come poc'anzi abbiamo fatto, pregando e ringraziando il Padre nel Suo nome, avendo tutti insieme nuovamente consacrato il nostro cuore, la nostra vita, questo pontificato, al Suo cuore immacolato di madre, di sposa e di regina, regina di ogni vittoria. Maria è regina delle vittorie perché ha vinto. Maria è colei che ha vinto il male ed ogni sua espressione, ogni suo seguace, ogni sua forma di tentazione ed inganno. E in Maria, con Maria e per Maria, noi Suoi figli vogliamo vincere, oggi ancor di più. Il maligno teme Maria. Il maligno è già stato sconfitto più volte da Maria. E qui, in questa terra d'amore, il male e il maligno sarà sconfitto definitivamente, sprofondato per l'eternità. Questo Gesù ha promesso alla Sua Fanciulla e questa è la nostra fede in Cristo e Maria. La vittoria di Maria ci rivela l'arma vincitrice nella preghiera del Santo Rosario, le disse Gesù. Ecco l'arma più potente e formidabile che, unita all'Eucarestia, noi, figli di Cristo e di Maria, abbiamo, per sconfiggere il male, la preghiera del Santo Rosario. Il Santo Rosario è divenuto nella storia l'arma più potente per i cristiani, insieme all'Eucarestia, per vincere ogni male, per sconfiggere ogni eresia, per allontanare ogni insidia e tentazione. La preghiera del Santo Rosario dobbiamo custodirla e praticarla. La Corona del Santo Rosario dobbiamo sempre portarla con noi e recitarla con fede. Giorno e notte ci dice il Signore, non come un amuleto, ma come l'arma sempre pronta da usare contro il male, contro ogni tentazione, contro ogni insidia, in ogni prova. Così come da figli di Dio siamo chiamati ogni giorno a vincere ogni insidia, ogni prova, ogni tentazione. Uniti alla Regina delle Vittorie, con la preghiera del Santo Rosario, vinceremo ogni battaglia, ora come allora, per difendere la fede cristiana da ogni insidia, da ogni tumulto, da ogni tentativo di annientare il primato di Cristo e della cristianità, da ogni eresia che oggi più che mai dilaga ovunque, soprattutto a causa dell'apostasia di una casa che ha tradito Cristo e il Suo Spirito, nell'intimo, come già avviene e come ancora di più nei prossimi giorni, avremo ancora una volta modo di constatare. Ma oggi noi vogliamo fare festa, noi oggi vogliamo contemplare Maria, noi siamo qui oggi per questo, non per pensare ad altro o ad altri. Noi vogliamo oggi onorare la nostra Regina e diffondere nuovamente a tutti i cristiani la devozione per il Suo Cuore Immacolato, la devozione per questa santa preghiera che Ella ci ha donato. In questi tempi duri e difficili Gesù ci invita a recitare la preghiera del Santo Rosario, così come Gesù ha rivelato a questa fanciulla, a colei che ci è madre nello Spirito, dicendole, «Ogni volta che recitate il Santo Rosario siete come immersi nel seno immacolato di Maria, la quale imprime in voi la mia immagine. È necessario in questi tempi difficili che abbiate sempre la corona in mano, giorno e notte, perché tramite questa preghiera la mamma svolge la sua maternità divina su ciascuno, cioè crea la mia divina umanità in voi. La sua potenza può essere paragonata alla divina Eucaristia. Esso è un'arma terribile contro le potenze delle tenebre. Unitevi nel Santo Rosario. Sarete come in Paradiso, lontano dagli affanni, dai dubbi e dai tormenti del nemico. Unite il Rosario all'Eucaristia. Ambe due sono la potente leva nel seno di Dio che vi fa dominare i nemici interni ed esterni». Ecco che nell'Eucaristia e con la recita del Santo Rosario nulla avremo a temere. Nell'Eucaristia viviamo la comunione con Gesù, pane vivo disceso dal cielo, unendoci con il cuore, con l'anima e con lo spirito, al suo cuore, alla sua anima e al suo spirito, per prendere parte ed essere parte di Cristo, per divenire come Cristo è. Con la preghiera del Santo Rosario ci uniamo a Maria per vincere sul male e sul maligno, come Ella lo ha vinto e sempre lo vincerà. Ecco perché in ogni famiglia cristiana, sull'esempio della Sacra Famiglia, ci si deve unire sempre più e si deve tornare a recitare questa preghiera, il Santo Rosario ogni giorno, così come stiamo facendo in questa Madre Chiesa in questo mese di Ottobre, mese dedicato alla Regina delle Vittorie e mese dedicato alla recita del Santo Rosario. Chi si unisce a Maria vince, ha già vinto e sempre vincerà. Maria è vincente e chi vuole vincere si deve unire a Maria, al suo cuore immacolato, ora più che mai. ecco l'invito ad essere umili, puri ed obbedienti, sull'esempio di Maria, la tutta bella, la tutta pura, colei che è stata ed è per tutti i cristiani vero esempio di umiltà e di obbedienza al Signore. Chi vuole vincere oggi, guardi alla Regina delle Vittorie e al suo cuore immacolato, si affidi nella totalità, a colei che è madre. Questo è l'invito che oggi come pontefice rivolgo a tutti i figli e a tutte le figlie di Dio e a tutti gli uomini e alle donne di buona volontà che sono nella prova, che sono afflitti. Si può essere afflitti, ma mai sconfitti. Si può essere sofferenti, ma mai scoraggiati. Questa è la nostra fierezza, questa è la nostra dignità, che come figli di questa madre vogliamo oggi testimoniare al mondo intero, affinché i cristiani rialzino la testa e con l'aiuto della preghiera e rimettendo al centro la fratellanza possano vincere. A tutti voi oggi dico contemplate il suo cuore, ricercate il suo cuore, chiamate il suo nome e nulla mancherà. Così come ella è stata obbediente fino alla fine, siate esempio tutti voi di obbedienza viva a Maria, al Figlio di Dio, per essere obbedienti fino in fondo alla volontà del Padre. sia fatta la Tua volontà, non la mia, ha sempre dichiarato Maria, anche nelle cose intimi e personali, partendo proprio da quelle, dalle piccole cose, dalle intime cose, dalle cose personali che si manifesta la vera obbedienza al suo cuore immacolato per ricevere la viva benedizione del Padre. Ecco colei che nulla ha tenuto per sé, ma tutto si è donato al suo Signore. è quel nostro esempio, vivo esempio, che ora vive e sempre più deve vivere in coloro, noi Suoi figli, che vogliono imitarne le virtù nella totalità. Maria, segno di vittoria, di Dio sul mondo, posando uno sguardo su una creatura, su una piccola fanciulla, il Padre ha vinto il mondo, innestando nel suo cuore Suo Figlio, per traghettare tutti alla conoscenza vera dell'essenza e della sostanza del Dio Uno e Trino. Ecco, Maria, chiave, 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 per poter comprendere il cielo, manifestatosi nel Figlio e che eternamente potrà essere vissuto, quanto più viva sarà la volontà di confluire nel cuore del Figlio. Ecco, Maria, colei che fa tremare il nemico di Dio, pronunciando il Suo nome, ogni catena cade, ogni male lingua viene tagliata, al Suo cuore ogni figlio trova pace e serenità. il nemico di Dio fugge davanti a Maria, Regina delle vittorie, Madre della speranza che per ogni figlio, per noi Suoi figli, diviene certezza, quella certezza viva dell'unione totale del Suo cuore con il cuore del Figlio di Dio. Ecco la congiunzione. Maria, Madre Chiesa, Vergine del Santo Rosario, Immacolata dello Spirito Santo, colei che rivestita della grazia del Padre, nella Sua potenza e gloria di Madre, accompagna e fa salire ogni cuore a contemplare il cielo, quel cielo che in questa terra è vivo, è tangibile, è persona. Oggi, insieme, continueremo a contemplare e ad onorare Maria, Vergine del Santo Rosario, Regina delle vittorie. Maria, 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 nome che vince, nome di colei che ha vinto e sempre vincerà. A Maria, questo popolo dedica oggi la propria devozione, riconoscendola come Madre e come Regina. Maria è colei che in questa terra ha sempre dimorato. Il Suo Spirito è sempre stato presente in questa terra che da sempre è nel pensiero del Padre. perciò dico che in questa terra Maria ha sempre dimorato, dimora e sempre dimorerà. il Suo Spirito il Suo Spirito è vivo e procede e ci accompagna. Accompagna noi Suoi figli per poter vincere ogni battaglia, per poter vincere la battaglia finale tra il bene e il male che è iniziata, è in atto e si concluderà con un solo risultato, la vittoria in Maria, con Maria e per Maria. E così sia. Amén.